Emergenza lavoro, i sindacati faticano a trovare soluzioni ma non si perdono d'animo. Nel loro taccuino figura anche il nome della SPA Siderbasto di Punta Penna. Mario Codagnone, segretario generale della CGL, ha confermato ieri mattina il massimo impegno dei sindacati per evitare la chiusura dell'azienda siderurgica e salvare l'occupazione di 55 persone fra operai e impiegati. L'amarezza dei lavoratori è legittima, ma né i sindacati né l'azienda intendono arrendersi alla crisi, assicura Codagnone, ricordando l'odissea della fabbrica negli ultimi due anni. Il 2010 e gli anni seguenti sono stati anni di cassa integrazione ordinaria e contratti di solidarietà. Negli ultimi mesi la situazione è peggiorata. La crisi edile ha portato al fallimento di diversi clienti dell'azienda siderurgica. L'automotive non va meglio. Il ferro non si vende, dice Codagnone. I lavoratori sono in cassa integrazione fino a luglio 2013. Nel frattempo stiamo cercando soluzioni. Il 13 febbraio ci sarà un incontro per fare il punto della situazione. Nessuno, salvo qualche eventuale richiesta di mobilità volontaria, perderà il posto, ribadisce il segretario regionale della CGL. Siderbasto ha iniziato a lavorare nel 1978. Nel 2004 ha incorporato l'Aprilbasto di Basciano, in provincia di Teramo, per poter ampliare la produzione. Alla fine degli anni 90 l'organico sfiorava le 90 unità. Nel 2005 il personale è stato ridotto al 30%. Ora i lavoratori sono una cinquantina e il vortice della crisi continua a risucchiare un numero sempre maggiore di aziende.